Il 2014 è un anno veramente speciale per Peugeot Sport e per l'Italia. Nasce una nuova vettura, la 208 Turbo 16. La vettura messa a disposizione da Peugeot Sport in categoria R5, motore 1.6 Turbo da oltre 300 cavalli, trazione integrale. È la vettura che punterà a rivincere il campionato europeo e tutti i campionati nazionali nel quale si schiererà, compresa l'Italia. Quindi è un anno veramente importante e come sempre il lancio di una nuova vettura è anche una nuova avventura. La 208 Turbo 16 è la vettura con la quale ci schiereremo nel 2014, una vettura nuova con la quale abbiamo l'ambizione di puntare a vincere tutto, campionato piloti, campionato costruttori. Peugeot in Italia è il marchio estero che ha vinto più campionati rally, 7. Vogliamo arrivare all'ottavo, pensiamo che la 208 Turbo 16 sia una vettura adatta per questo e ovviamente confermatissima la coppia di Paolo Andreucci e Anna Andreussi.